Foggia nel decennio napoleonico, istituzioni e ceti dirigenti. Questo il titolo del nuovo appuntamento in programma martedì 20 febbraio con le conversazioni di storia locale, ciclo di incontri a cura della sezione fondi speciali della biblioteca La Magna Capitana di Foggia, giunto alla settima edizione. E proprio a Foggia, presso il Museo di Storia Naturale, avrà luogo l'iniziativa il cui obiettivo è quello di approfondire che tipo di ripercussioni ebbe il nuovo impianto amministrativo di marca napoleonica sui ceti e sui ristretti gruppi di famiglie nobili locali. Ad intervenire ci sarà anche la docente Roberta Sassano, che offrirà al pubblico un approfondimento della storia delle istituzioni e dell'élite foggiana nel passaggio dalla società divisa per ceti dell'anzien regime a quella del periodo napoleonico.